Salve amici del canale, nel video precedente abbiamo spiegato quella che è appunto la cosa da non fare mai per le penne stilografiche in particolare ora continuiamo con la spiegazione dei vari titoli che avevo scritto questi sono veramente cose importanti se non fondamentali siamo arrivati alla voce 7 allora poi la voce 8 dice smontarle se non si esperti ecco una cosa da non fare mai è proprio smontare la penna se non si è esperti perché molti per pulirla oppure per vedere per curiosità che cosa c'è all'interno della penna come è fatta, come è costituita alcuni vogliono addirittura migliorare la penna stessa che hanno acquistato ragazzi non fatelo mai se non siete veramente degli esperti io ho provato sulla mia pelle una brutta esperienza ho vissuto un'esperienza orribile perché ho smontato una montegrappa anni fa diversi anni fa perché il conduttore non erogava bene l'inchiostro cioè notavo che la penna era nuova però c'era un problema l'avevo acquistato da un negozio e il negozio mi ha detto beh la devi spedire per avere la garanzia ovviamente di avere una deve farla aggiustare oppure ovviamente a spese due oppure tenda di spostare tu il pennino e vedi un poco se scrive la penna io segui questa seconda strada cioè smontai questo tirai fuori questo pennino e alla fine vi dico la verità ho fatto un vero guaio perché non è questa la penna però è un'altra penna mondegrappa che ho e se ne venne tutto il conduttore fuori e nella mia ignoranza cercai di rimetterlo all'interno dopo aver pulito tutto l'interno della penna e tutto praticamente il pennino all'interno perché poi alla fine a forza di girare e svitare il pennino se ne venne proprio tutto il pennino all'interno della penna io tutto contento, ti sa che bello ora metto mano alle penne stilografiche vedo all'interno che c'è curioso della cosa quando l'andai a rimontare ragazzi il conduttore sembrava andare bene il pennino perfetto quando la vado a caricare spruzzava cioè perdeva inchiostro dappertutto la ripulì, la rismontai, la ripulì, la rismontai, la ripulì, la rismontai la di nuovo ricaricai e ragazzi alla fine non c'è stato niente da fare ho dovuto mandare la penna in assistenza perché ragazzi le mie mani all'inizio non erano esperte ora qualcosa lo so fare ma prima non avevo capito che effettivamente vi spiego che cosa era successo vedete il conduttore ha delle righette queste lineette che poi hanno un nome, non mi ricordo il nome queste lineette vanno messe in una certa posizione in una certa angolazione, in un certo modo e anche dove sta qui la punta del pennino vedete le banite dove termina nella parte dei rebbi nella parte finale delle banite si deve mettere in una certa posizione se non combacia la perfezione e la situazione perde inchiostro io non sapevo questa cosa cioè lo montai nella mia ignoranza quindi ragazzi alla fine siete costretti a mettere mano a portafogli se le smontate e mi è andata anche bene perché alla fine l'assistenza mi ha regalato ovviamente perché doveva diciamo un pennino nuovo perché poi alla fine hanno scoperto che quello era proprio di suo diciamo non creato bene però ragazzi che cosa voglio dire con questo che voi dovete prestare molta attenzione a non smontare le penne andate sempre in mano ad esperti poi quando avete fatto la mano come si deve potete praticamente procedere con il resto quindi potete fare quello che vi pare e piace ok? però il mio consiglio è non smontare le penne stilografiche dalla prima volta che le avete acquistate poi lasciarle sporche d'inchiosso in particolare il pennino ragazzi questa è una cosa veramente molto importante io noto vabbè ho noto che alcuni che utilizzano le penne stilografiche che fanno? bagnano la penna caricano la penna e non asciugano bene il pennino rimanendo delle goccioline al di sopra di esso sul pennino e magari la utilizzano sempre così e vanno avanti scrivono e rimangono sempre questo pennino tutto sporco ragazzi l'inchiostro corrode l'oro non c'è niente da fare corrode quasi ogni materiale soprattutto state attenti alla celluloide perché l'inchiostro si rimane attaccato alla celluloide o all'argento cosa che mi è successa perché non in questo caso ma in una penna che era fatta tutta ad argento qua si era bagnato un po' di inchiolo rimasta dopo due mesi vado a vedere due mesi che non l'avevo utilizzata e questa penna risultava tutta macchiata cioè l'avevo pulita niente da fare si è mangiata all'argento ovviamente anche può succedere con l'oro quindi stati attenti a pulire sempre tutte le parti di inchiostro nei momenti in cui voi avete caricato la penna asciugatela bene e poi la penna partirà da 6 se la penna è buona quindi ragazzi non rimanete mai il pennino bagnato di inchiostro puliterlo e l'inchiostro deve stare sotto il pennino non sopra il pennino capito? quindi lo inchiostro deve passare sotto sotto ok? da questa angolazione vedete? deve passare sotto nel conduttore non deve bagnare la parte superiore questa deve essere sempre pulita come faccio io vedete? non presenta inchiostro presenta semplicemente lucidatura perfetta quindi ragazzi state attenti quindi è molto importante lasciarle pulite soprattutto le parti dorate poi intentare a tutti i costi di farla scrivere premendo il pennino ragazzi se la penna è un po' secca se la penna è sembra che non scriva bene mandatele in assistenza punto finito non cercate di modificare per forza la scrittura di essa c'è gente io ho visto veramente cose assurde che per forza di cose prendono la penna facciamo un esempio e vogliono per forza vedono che non scrive la penna e cominciano a intasare cercando di far uscire l'inchiostro ovviamente vedranno un po' il risultato all'inizio poi alla fine comincerà a seccare di nuovo quindi non fatelo mai perché sforzate i rebbi i rebbi non devono essere sforzati più di tanto perché la forza che deve essere esercitata su un pennino deve essere sì diciamo costante ma non abbondante cioè voi dovete più che forza dovete utilizzare il peso della penna stessa per scrivere perché se già il peso della penna non fa scrivere la penna vuol dire che non è sufficiente e quindi voi dovete sforzare il vostro polso la vostra mano e allo stesso tempo state rovinando la penna perché la penna per essere una buona penna deve scrivere da sé cioè il peso già dovrebbe bastare per farla partire e avere sempre un flusso costante e senza skipping se invece questo non avviene vuol dire che la penna effettivamente ha qualche problema di flusso e quindi anche di tutto il resto quindi mai 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 premere il pennino più del dovuto voi ve ne accorgete non dovete fare aprire i Rebbi continuamente in questo modo i Rebbi devono stare sempre uniti a scrivere e scrivere e scrivere in questo modo vedete come le mie dita questi sono i Rebbi e quando qualche volta volete fare un po' un calco maggiore fatele aprire leggermente in questo modo ma mai così sempre a scrivere in questo modo rischiate di rompere i Rebbi quindi torniamo alle altre indicazioni avere degli scatti durante la scrittura ragazzi le penne vi dico una cosa questa è importante ho notato che sulle penne con diciamo il conduttore in plastica strano a dire non è questo però quelle che hanno il conduttore è che questo qua in plastica questo è nebanile questo qua però permettono quelle in plastica di avere anche qualche scatto in più cioè nel senso che voi scrivete a un certo punto fate così con la penna magari volete fare una firma veloce e quindi fate questo movimento e quindi fate questi scatti allora ragazzi le penne stereografiche non sono fatte per fare degli scatti cioè fatti moderatamente in modo morbido ma non così così perché ragazzi gli inchiostri potrebbero soprattutto nei conduttori nebanite fuori uscire da essi vedete che è sempre bagnata vedete che diciamo mantiene bagnato il conduttore l'inchiostro e questo significa che c'è dell'inchiostro nel conduttore nelle banite perché che deve erogare giusto quantitativo di inchiostro quando ne ho bisogno per scrivere le penne non sono fatte per essere buttate per essere mosse in modo brusco ma sono fatte semplicemente per diciamo scrivere ecco ragazzi allora questo è importante quindi non fate degli scatti invece nei conduttori in plastica ho notato che questo avviene meno cioè anche se fate questi scatti non succede niente le banite qualche volta mi perde la gocciolina diciamo cioè ci schizza la gocciolina qua però non sempre quindi vi consiglio di scrivere in modo morbido lineare e pulito e andrete sempre bene non c'è bisogno di scattare non è questo che fa la firma di un uomo ok o di una donna ovviamente allora utilizzare materiali corrosivi per lavarle penso che molti l'abbiano già detto in molti video li ho visti qualcuno addirittura qualcuno diceva acqua e sapone concordo pienamente soprattutto il sapone neutro io non è una tecnica che uso non amo mettere il sapone nelle penne utilizzo sempre dei liquidi cioè liquidi specifici per le penne vi ho fatto già vedere il monte verde che utilizzo in un altro video e ovviamente ragazzi utilizzate poi l'acqua per spurgare la penna cioè pulitela con l'acqua abbondante alla fine della pulizia della vostra penna poi la dovete asciugare del tutto ok cosa dirvi i corrosivi possono essere materiali come alcol qualcuno addirittura ha usato l'alcol ragazzi non lo fate perché potrebbe rovinare oltre la penna potrebbe rovinare anche come dire la parte esterna della penna non solo la parte interna perché la celluloide in particolare è molto delicata ripeto ma anche altri materiali quindi l'alcol potrebbe comunque oltre che dare un cattivo odore dare dei problemi proprio di flusso e anche nelle parti esterne se vanno a contatto con materiali dannosi possono corroversi quindi ragazzi il mio consiglio è sempre state a te utilizzate i materiali preposti per la scrittura tentare di inciderli a mano ragazzi ci stavo un mio amico vi dico la verità quanto può costare l'incisione su di una penna ovviamente ci sono delle case che regalano l'incisione soprattutto l'incisione consiste io non l'ho mai incise per non perdere il valore della penna perché vi venda personale poi non la puoi vendere facilmente perché poi rimane la tua incisione e chi se la va a comprare cioè magari qualcuno la compra lo stesso ma sinceramente io non comprerei mai una penna già incisa personalmente poi ognuno fa sempre quel che vuole e si incide o sul lato le iniziali nome e cognome oppure sul fusto della penna magari una frase qualcosa un nome intero perché la rendi personale addirittura la mondegrappa nella personalizzazione nella parte esterna della incide qui sull'argento quindi mette le iniziali sull'argento piedi seguito si possono incidere in vari modi le penne ok per rendere a gusto personale migliore la penna però ragazzi le incisioni vanno fatte a laser ok basta non fate incisioni con le vostre mani con taglierini allora ragazzi assistite un mio amico dicevo che aveva comprato una penna di 300 euro una waterman niente di che era fatta di lacca la lacca cinese insomma e aspettate mi sembra che era la waterman caren la caren è una penna molto bella vedetela sui siti vanno in 200-300 euro costa intorno ai media 250 la media comunque su questa waterman lui un giorno decise di per risparmiare 10 euro 15 euro di incisione decise di scrivere le iniziali del suo nome sul fusto della penna che era fatta di lacca cinese e usò un taglierino ragazzi il risultato sapete qual è stato che talmente che aveva calcato la penna e si era praticamente rovinata proprio tutto tutto il fusto cioè era una cosa orribile o scena ha tentato la sostituzione del prodotto ma ovviamente in un negozio dove l'aveva acquistata ma ovviamente la sostituzione non gli è stata fatta se non a pagamento perché tu se vai a incidere una cosa orribile a mano rischi di scivolare perché poi queste penne ragazzi sono molto vedete scivolano tra le dita non è che sono ruvide molte di esse ma tutta la lacca cinese pure mi dà un senso di pure questa per esempio questa è Montegrappide è un materiale bellissimo fatto dalla Montegrappa e scivolano devono dare un senso di piacevolezza tra le mani se tu gli vai a fare un'incisione già da un a un tocco sgradevole la penna poi mettiamoci pure che la rovini è brutta da vedere ragazzi fatele fare a laser da esperti e fatele incidere sempre personalmente vi consiglio delle piccole lettere solo le iniziali o magari un animaletto o qualcosa o qualcuno addirittura si disegna gli animali a me per esempio piacciono molto le incisioni di egiziani e quant'altro quelle cose egiziane quindi ragazzi cosa volevo dirvi con tutto questo giro di parole non fatelo mai a casa da soli ok anche con motorini insomma non fatelo fatelo fare a esperti perché loro sanno fare il loro mestiere benissimo lo so e d'altronde sappiate che una volta incise le vostre penne comunque ragazzi se poi le dovete rivendere non so quanto sia facile farlo perché già così poi a rivenderle diciamo se la penna non ha un valore eccessivo cioè figuriamoci poco l'incisione quindi ragazzi attenzione pensateci due volte prima di incidere le vostre iniziali o i nomi state attenti ragazzi con questo voglio concludere farò un ultimo video su cosa non fare mai con le penne stilografiche fatene veramente tesoro di quello che vi sto dicendo questi video vengono girati per voi e non per me perché io queste cose già le so quindi io cerco di dare informazioni e insegnamenti secondo le mie esperienze e io mi sono sempre trovato bene poi a ognuno la libertà di scegliere ciò che è fare della propria vita grazie 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 al prossimo video